pochi mesi è riuscita a passare da flop a top rinunciando a quella che era la sua caratteristica principale l'essere buona l'essere un esempio da seguire in molti pronosticavano per lei un futuro alla john cena lo scrivevano un po tutti i siti è il nuovo leader della chain gang soltanto al femminile con la sottana e quindi ci ammorberà per sempre con discorsi legati alla bontà all'amicizia e al fare la cosa giusta e invece bailey è passata dall'oscurità ad essere una costante sorgente di luce almeno a livello narrativo e nell'economia degli show mutando pelle camaleontandosi e tramutandosi in una delle cattive più cattive all'interno degli attuali show della wwe ma procediamo con ordine si dice che i numeri non mentano mai bene il wrestling non è poi così vero perché la statistica non sempre va a braccetto con la realtà però ci possono dare uno specchio una fotografia di quello che stiamo vivendo e bailey che dalle quattro cavaliere dell'apocalisse iniziali lei sasha banks charlotte flair e becky lynch occupava un posto da rincalzo beh comunque sta mettendo in cassaforte dei dati molto molto importanti ha superato i 290 giorni consecutivi come campionessa di smackdown ed è prima in questa specifica graduatoria addirittura ha staccato e di tanto charlotte flair che copre il secondo posto con 147 giorni quindi guardate già la differenza e poi sommando i suoi due regni è stata campionessa ed è ancora lo è attualmente dello show blue per più di 430 giorni e insomma è messa bene perché la prima è prima in classifica anche in questo particolare ranking la seconda è becky lynch con 216 giorni divisi però in tre capitoli titolati dunque se andiamo a fare la matematica se guardiamo semplicemente a questi dati possiamo dire che belli ha già superato tutte le previsioni che le venivano appiccicate addosso come un adesivo prima ancora che debuttasse nei roster principali ma andiamo ad analizzare il suo grande cambiamento perché si è modificata da così a così io stesso lungamente nelle mie analisi a caldo dopo i pay per mi sono trovato a blastarla la trovavo un po fiacca nel ring un po scadente nello striking e per certi versi anche demotivata adesso invece si nota veramente un atteggiamento nuovo frutto probabilmente del ritorno in pianta stabile di sasha banks che le ha dato entusiasmo lei e sasha banks sono grandi amiche nella vita reale hanno condiviso la gavetta i sacrifici il sudore e la fatica sasha se n'era andata ve lo ricorderete dopo aver perso i titoli tech team avresta almenia sembrava disinteressata tornare era era finita anche in un dojo giapponese a fare una visita alimentando un sacco di dicerie poi a rientro in wwe non era stata efficace come in precedenza sembrava avere la testa un po tra le nuvole persa anche in alcuni progetti musicali con snoop dog che è suo parente ora invece sasha sasha c'è c'è spesso c'è sempre e questo sembra avere un effetto un influsso come un talismano positivo su che è una persona differente pur avendo cambiato gimmick poi dobbiamo ovviamente registrare l'assenza delle ombre lunghe di becky lynch per gravidanza e di charlotte flair che invece eh si è infortunata e che potrebbe sentire anche il canto melodioso delle sirene hollywoodiane che la stanno in qualche modo suadendo andrà a fare qualcosa da quelle parti o per la tv non lo so però intanto due pezzi da novanta sono fuori dei giochi e quindi si apre un'autostrada che prima sembrava chiusa e allora meglio infilarci in meglio infilarsi in quella corsia meglio buttarsi dentro e nuotare a più non posso e aggiungiamoci anche che il roster di smackdown dopo tutti i cambiamenti draft gli spostamenti apparentemente sembra meno ricco rispetto a quello di raw eh tanto che eh si fatica a creare delle contender immediatamente spendibili a livello di mercato e di marketing è vero qualcuno potrà dire mi c'è alexa bliss nicky cross ha fatto bene di recente però alexa nel recente passato ha dato qualche dubbio sulla sua stabilità fisica ora queste incognite si stanno riassorbendo tuttavia potrebbero essere ancora presenti mentre nicky cross rimane un po un personaggio borderline sul quale credo che sarebbe bello puntarci ma forse non è ancora arrivato il momento giusto oppure chissà magari la sua occasione è già dietro l'angolo ma vediamo qualche dato meno visibile meno chiaro meno lampante qualcosa da insider allora innanzitutto eh questo molti di voi non lo sanno anzi credo quasi nessuno perché non avete accesso a determinati dati della wwe ma belli eh negli ultimo periodo ha stabilizzato il suo lavoro con il producer con i producer pat buck e tj wilson quindi cambiare sempre chi supervisiona il tuo lavoro può essere problematico beh lì invece nelle ultime settimane negli ultimi mesi è stata quasi sempre affidata a questi due nomi pat buck è un ex lottatore che non ha mai raggiunto grandissimi traguardi quando wwe ha provveduto ai licenziamenti è stato tagliato ma si sono probabilmente accorti quasi subito che mancava che serviva che era indispensabile e infatti lo hanno richiamato quindi la sua storia è molto particolare in più pat buck insegna wrestling dal 2012 tra new york e new jersey ha aperto una palestra ha allenato in altre alcune anche in coabitazione con atleti wwe o ex wwe e da qualche tempo oltre ad essere lui l'addetto ai match di belli a row supervisiona anche tutti i suoi promo quindi la aiuta ad essere ficcante in questo fondamentale pat buck è ancora abbastanza giovane quindi ha una certa capacità di comprendere cosa può funzionare o meno sui giovani e io credo che sta abbia svolgendo un lavoro eccelso tj wilson invece è conosciuto anche come tyson kid lo conoscete un po tutti lui oltre ad essere un ex wrestler si è ritirato per un infortunio e anche marito di natalia e si è specializzato nel seguire la categoria femminile quindi belli sta lavorando dietro le quinte con due ottimi professionisti come producer e soprattutto non li cambia continuamente e questa è veramente una cosa importante se vuoi in qualche modo meccanizzare il tuo schema lavorativo in più c'è il feeling con gli arbitri a smackdown cambiano spesso c'è charles robinson jessica carr insomma c'è un tornado di direttori di gara ma quando belli combatterò fateci caso quasi sempre nove volte su dieci c'è john con può sembrare anche questa una cosa minimale invece se hai un arbitro di cui ti fidi con il quale hai armonia del quale conosci i codici e i metodi comunicativi sei anche più sicuro nel ring andando avanti belli ha dovuto modificare letteralmente il suo personaggio e qui ho preso dei piccoli estratti da alcune sue interviste recenti cosa ha detto belli beh innanzitutto che l'assenza di pubblico le ha permesso di non doversi preoccupare delle reazioni dei fan durante gli show televisivi e questo per lei è stato un vantaggio perché i fan avrebbero potuto deragliare il suo personaggio o i suoi match come già capitato in passato perché magari schiacciati da alcuni preconcetti invece il poter andare a ruota libera in un'arena deserta le ha dato almeno inizialmente la sicurezza di proporre qualcosa di nuovo senza subire un contraccolpo morale immediato in più ha svolto un addestramento segreto dietro le quinte per rendersi il più fastidiosa possibile perché ve lo ricorderete il suo primo personaggio malvagio era insipido sembrava una pasta asciutta scotta un'insalata non condita invece adesso appena apre bocca con i suoi versi le sue risate il suo modo sguaiato di muoversi beh ti fa salire la rabbia tu la vorresti vedere perdere vorresti che la cintura la vincesse qualcun altro vorresti che qualcuno la prendesse a sverle a schiaffi che le chiudesse il becco e questo è fondamentale quando sei un cattivo quindi molto brava si è rimboccata le maniche e ha fatto quello che si deve quello che deve fare un vero professionista e poi ha dovuto come già vi anticipavo prima superare le iniziali remore interiori di questo tourneel di questo passaggio cattiva dopo aver combattuto eh in wwe praticamente da sempre come buona come face se un personaggio una parte di te che devi esteriorizzare ti è sostanzialmente sconosciuta a te per prima non è semplice partire con la marcia giusta quindi belli ha un attimino singhiozzato è andata basso è andata basso di velocità non ha ingranato subito ma poi finalmente ha capito chi doveva essere e chi doveva diventare in più fino a che c'erano i live event lei ha approfittato di questa occasione per provare e fare assestamenti a newsweek parlava di un tour alle hawaii che le è stato di notevole aiuto proprio per mettere a posto alcuni sincronismi e capire meglio cosa fare per portare i tifosi ad arrabbiarsi aggiungiamoci anche la fiducia della wwe che ha deciso di profilarla in tutti i roster e questo ha aumentato la sua autostima e la sua voglia di fare di conseguenza anche quella di mettersi in gioco è vero siamo al performance center non ci sono i grandi viaggi grandi spostamenti è più facile non hai uno stress fisico pesante a cui sottoporti come quello che avresti se roy smackdown fossero in tour come accade e accadeva prima del covid e come speriamo accada presto però intanto il sentirsi protagonista le ha fatto bene e aggiungiamoci anche la morbosità dei fan che da mesi anticipano una rottura con sasha banks e questo ha reso più intriganti i momenti televisivi con le due ragazze come protagonista come protagoniste nell'attesa che accada o potesse accadere qualcosa che le portasse al litigio insomma questa attesa del temporale no questo mettersi lì con la canna da pesca sapendo che il pesce abboccherà ha fatto sì che il pesce non ha ancora abboccato però ogni sguardo ogni mezzo aiuto mancato ogni piccola incomprensione fa urlare al temporale o alle nuvole che si avvicinano anche se poi la siccità permane quindi ha fatto centro belli grazie a tutte queste cose alcune delle quali essa stessa è riuscita a identificare andiamo a vedere una penna molto nota nel giornalismo americano dei melzer come giudica nel suo sistema stelle i recenti match di belli nei pay per view clash of champions contro charlotte è andata malino una stella e un quarto 1,25 io li ho messi in una posizione un po più comprensibile per i bardi che lavorano con le parole e lì nel 6 ancora contro charlotte 2,25 super showdown contro naomi 2,25 melzer ha scelto di non recensire vrestalmania contro tamina money in the bank 1,5 era difficile fare di meglio tamina veniva da tanti infortuni e non è molto mobile in più non c'era una grande storyline a backlash c'è stata una sfida pluriteg 2.0 e a stream rules contro nikki cross addirittura 3,25 quindi da quando c'è stato il tournil a parte una piccola battuta d'arresto con tamina beh i voti non sono così male io ovviamente li ho presi semplicemente per farci eh da bussola non hanno nessuna crisma eh di ufficialità era solo per farvi vedere come tutto sommato belli per quella che è l'opinione di uno dei più noti giornalisti americani non sta poi facendo così male certo niente di cui strapparsi i capelli però anche qui stiamo andando verso un leggero crescendo però ho tratto delle conclusioni analizzando questi voti allora innanzitutto belli rende al meglio nelle sfide singole senza strane stipulazioni quando c'è un match canonico belli lo sa fare lo sa condurre per fare bene ha bisogno però di avversarie dinamiche quindi gente veloce gente non troppo pesante gente che sa correre che può fare anche tante mosse tecniche o di potenza ma che per lei deve essere facile da maneggiare in qualche modo e in più vedendo quanto è importante a royal smackdown la mia sensazione è che il peso del suo personaggio sia paradossalmente più forte nelle puntate televisive settimanali per me belli è un atleta da costruzione e non da payoff cosa significa che belli questa belli la belli cattiva la belli irritante la belli arrogante la belli malvagia riesce a catalizzare su di sé veramente l'odio dei tifosi l'indisposizione di chi guarda il televisore le stanno scrivendo attorno anche delle storie che sembrano un bellissimo abito cucito su misura però il payoff ovvero il match finale il match decisivo il la resa dei conti ecco su quella è ancora un attimino traballante lì può ancora lavorare per fare meglio randy horton ad esempio un ottimo atleta da costruzione e anche da payoff randy horton è convincente concreto anche lui si fa odiare quando arriva al payoff al match decisivo difficilmente fa cilecca che vi piaccia o meno almeno per quella che è la proposta della wwe ecco qui belli deve ancora un attimino darsi da fare e allora andiamo alle conclusioni le conclusioni sono altamente positive belli veramente ha reinventato se stessa ha superato tanti ostacoli forse non voleva essere del tutto cattiva all'inizio si è trovata catapultata in una realtà nuova ma oggi a row a smackdown se la gioca con i top il della federazione qui ne ho scritti alcuni soprattutto quelli più vincenti ad esempio anche shimus è un grande il ma non è al momento tra i più vincenti in questa lista l'unico che esce da tale casistica è king corbin che ho aggiunto per motivi di anzianità e anche per premiarlo anche gli per i tanti progressi che ci ha mostrato attualmente i top il della federazione possono essere set rollins king corbin randy orton e g stiles drey wyatt ed mvp in questo mix ci metto anche belli la mia analisi che al momento solo randy orton riesca a superarla sia per il palmarès molto prestigioso che ha alle spalle sia proprio per quella capacità di essere efficiente e di arrivare al top in tutte le fasi della proposta del wrestling wwe beli ancora non del tutto ma ci si sta avvicinando voi siete d'accordo e come ordinereste questi nomi in un'eventuale classifica top il attuale della wwe tenete presente che top il non vuol dire più bravo nel ring vuol dire quanto lo detestate quanto lo volete vedere perdere quanto vi dà sui nervi quanto lo odiate quanto vi fa insomma ribollire il sangue ok non è una gara di tecnica o di spettacolarità anzi i migliori il della storia di solito hanno proprio ricacciato indietro queste skill non le hanno mostrate per invece tirare fuori il peggio del proprio carattere beh mettetemelo in ordine oppure ditemi la vostra nei commenti